Si è svolto questa mattina in Comune a Sanremo un incontro tra i Presidenti dei Consigli Comunali di Sanremo, Imperia, Taggia e Ventimiglia. La riunione tra Alessandro Il Grande, Pino Camiolo, Laura Cane e Domenico De Leo si è aperta con un momento di cordoglio per le vittime della grave tragedia che ha colpito Genova e i Presidenti dei Consigli Comunali hanno espresso la solidarietà e la vicinanza delle rispettive comunità. La riunione ha avuto come tema centrale la riorganizzazione del comparto sanitario del Ponente Ligure e in particolare il declassamento dei reparti di gastroenterologia di Sanremo e di chirurgia vascolare di Imperia a seguito della recente delibera della Giunta regionale. I Presidenti Alessandro Il Grande, Pino Camiolo, Laura Cane e Domenico De Leo chiedono un incontro urgente con l'assessore regionale alla Sanità, Sogna Viale, e i responsabili dell'ASL-1 sulla tematica in questione. Il declassamento dei reparti di gastroenterologia di Sanremo e di chirurgia vascolare di Imperia è una questione che tocca tutta la provincia e che ha suscitato tanta preoccupazione tra i cittadini delle rispettive comunità, essendo quello della sanità un tema molto delicato e sentito. Riteniamo importante chiedere un confronto unitario costruttivo con la Regione e con la direzione ASL per comprendere le ragioni di questa decisione, hanno dichiarato i Presidenti dei Consigli Comunali di Sanremo, Imperia, Taggia e Ventimiglia in una nota congiunta.